Musica Bentrovati alla seconda edizione del TG6 Sulla questione riguardante il rinnovo delle cariche in Aca all'azienda acquedottistica il centrodestra attacca il centrosinistra e difende l'operato dell'attuale amministratore unico I microfoni di Paolo Renzetti Antonelli, si continua a parlare di Aca di un nuovo vertice per quanto riguarda il consorzio acquedottistico c'è chi rivuole un nuovo CDA qual è il pensiero del centrodestra? Il nostro pensiero è lo stesso che ci ha portato tre anni fa a mandare a casa una classe dirigente che aveva distrutto l'Aca ridotta sull'orlo del fallimento e insieme all'Aca tutta una serie di comuni quel pensiero che ci portò all'individuazione di un amministratore unico anche per contenere i costi nella figura di uno stimatissimo professionista che ha salvato l'Aca e con essa tutta una serie di comuni adesso c'è quella parte politica che ha distrutto l'Aca negli anni precedenti cioè il Partito Democratico o almeno una buona parte del Partito Democratico non tutto che vuole ripristinare il CDA evidentemente perché ha bisogno di poltrone per accontentare correnti e sottogruppi e questo porterà inevitabilmente dove passasse questa proposta ma non passerà perché sono convinto che i sindaci comunque colorati dal punto di vista politico si opporranno a questa richiesta del sindaco di Francavilla che francamente trova giustificazioni solo nella esigenza di creare più poltrone e aumentare i costi dell'Aca Resta dunque positivo il vostro giudizio sul lavoro fatto dall'amministratore unico? Assolutamente sì ma non ci inventiamo nulla lo ha detto lo stesso tribunale di Pescara i conti sono sotto gli occhi di tutti si è chiuso con un attivo il bilancio del 2015 dopo anni in cui invece i debiti erano stati accumulati avevano toccato anche la considerabile cifra di 100 milioni di euro quindi cifre enormi quindi il nostro giudizio sull'avvocato di Badassare è un giudizio assolutamente positivo rivendichiamo la bontà di quella scelta cioè di un professionista che non è schierato politicamente e che non rispondendo politicamente a nessuna parte ha potuto fare un lavoro in modo oggettivo e in modo assolutamente professionale Via Libera al bilancio all'Aquila con tanto di aumento della tassa sui rifiuti sulle barricate pertanto le opposizioni Giorgio Alessandri Arriva in un caldo fine agosto il Via Libera al bilancio del Comune dell'Aquila che segue l'assestamento generale e la salvaguardia dello strumento economico finanziario un assestamento da lacrime e sangue con tanto di aumento della Tari varato dalla maggioranza nei mesi scorsi in attesa dei 16 milioni del governo per coprire le mancate entrate e le maggiori uscite legate alla post-sisma finanziamento che in un primo momento per motivi burocratici e legati all'assesura dell'emendamento che il governo ha inserito nel decreto 20 locali sembrava non potesse bastare con l'ospetto di un ulteriore aumento della tassa sui rifiuti Alla fine l'ulteriore impennata di tasse non è arrivata ma dalle opposizioni si sono levate proteste che hanno sottolineato il voto contrario di tutto il centrodestra e i movimenti civici Come avevamo previsto siamo arrivati a fine agosto senza un vero bilancio oggi probabilmente si arriverà a questa votazione di un bilancio come hai definito tu che scontenta tutti scontenta vedo elementi della maggioranza che addirittura minacciano di non votare questo bilancio avevamo già detto come opposizione che era un bilancio assolutamente assurdo finisce tragicomicamente un percorso che è passato prima per errori fatti in Senato poi per mancanze di programmazioni qui in Comune e adesso si arriva per un assestamento dopo la diffida del Prefetto quindi una serie di strafalcioni questo che rappresenta l'ultimo vero bilancio che il Comune sta prontando e che sarà quello che ci porterà alla campagna elettorale dell'anno prossimo è un bilancio che assolutamente dimentica le frazioni dimentica i servizi dimentica il sociale siamo assolutamente contrari voteremo anche contro questo assestamento proprio per manifestare la contrarietà alla incapacità amministrativa e di programmazione di un'amministrazione che ha saputo scordare gli ultimi è sempre più vicina ai poteri forti della città e soprattutto dimentica quelli che sono i veri problemi non è un'estate facile a Pescara ma il presidente della commissione commercio del Comune Piero Giampietro sottolinea l'importanza degli eventi che si sono svolti nelle ultime settimane ascoltiamolo siamo nell'ultima parte di estate è un'estate che comunque a Pescara ha visto anche importanti eventi l'ultima la notte dello shopping poi la notte bianca possiamo fare un primo bilancio ma sicuramente questa è stata una stagione non proprio fortunata anche da un punto di vista più evidente del meteo nel senso che comunque abbiamo visto che purtroppo tanti weekend sono stati molto azzoppati dal tempo non molto favorevole di conseguenza per i commerci pescaresi ma in generale un po' per tutto il nostro editorale abruzzese sono stati comunque stagioni migliori sicuramente cioè nonostante il Comune comunque ha cercato di mettere in campo con le poche risorse di cui dispone una serie di eventi che hanno comunque consentito anche nell'ultimo scorcio di stagione di riprendere alcuni passaggi l'ultima appunto la notte bianca del 19 che comunque pur essendo fuori un po' dal momento colunico che mora del commercio sicuramente ha consentito soprattutto ai propri esercizi di avere una buona capacità di incasso inutile sottolineare Gianpietro che la problematica del mare di Pescara tutti i problemi che ci sono stati hanno comunque inciso sul movimento turistico in città e anche nell'Interla sicuramente sì non è possibile comunque negare questa evidenza c'è stata anche molta reattiva informazione da parte di alcuni movimenti politici che hanno comunque fatto pensare che il mare di Pescara fosse diverso da quello degli ultimi anni in realtà non è stato così il mare appunto della nostra città è lo stesso degli ultimi anni sono stati messi in campo moltissime energie per pulirlo si sta procedendo ad un intervento strutturale per i prossimi anni sicuramente però c'è anche da dire che probabilmente qualcuno forse deve anche chiedere scusa perché ad esempio sulla vicenda di Ryanair in cui veniva dato per certo che Ryanair non fosse più appunto interessato a Pescara oggi parliamo di investimenti comunque molto consistenti ecco da parte di quelle forze politiche che hanno fatto del terrorismo sicuramente andrebbe forse fatta una richiesta di scusa alla città il presidente del consiglio Matteo Renzi è incontrato ieri pomeriggio a Forte dei Marmi una delegazione di CNA balneatori che ha illustrato i temi relativi alla tutela e alla promozione delle imprese del turismo costiero presente all'incontro il coordinatore nazionale di CNA balneatori Cristiano Tomei i vertici della CNA di Lucca e Via Reggio è una delegazione del comitato salvataggio imprese di balneazione che aderisce completamente alle posizioni di CNA balneatori è stato un incontro positivo e molto importante si legge in una nota la tutela del lavoro e degli investimenti di 30.000 imprese balneari italiane prosegue la nota ha bisogno dell'appoggio pieno del governo e delle istituzioni l'obiettivo è arrivare in tempi brevi alla costruzione e alla messa a punto di un disegno di legge che garantisca il diritto di continuare a lavorare per le eventuali imprese e per gli imprenditori balneari e dentro fine mese sarà realizzata in forma sperimentale una nuova rotonda su Via Po a Teramo l'incrocio con Via Fonte Regina il provvedimento rientra nell'ottica della rimodulazione della viabilità della città che si tradurrà nella redazione del nuovo piano del traffico Andrea Costantini una nuova rotatoria fra la sua comparsa a Teramo in uno snodo particolarmente importante su Via Po all'incrocio con Via Fonte Regina e nei pressi dell'intersezione con Via Flaiani nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Brucchi dirigenti comunali e gli assessori ai lavori pubblici fra Cassa e al traffico Cozzi hanno effettuato un sopralluogo sul tratto di strada dove sarà collocato il nuovo rondò come spiegato dal primo cittadino in questa settimana il progetto per il quale sono state individuate le risorse sarà portato in giunta e dentro la fine del mese la nuova struttura del traffico prenderà vita in forma provvisoria e sperimentale i giorni successivi saranno utili a capire in che modo il provvedimento avrà impatto sulla viabilità di una delle principali arterie della città i semafori per questo non saranno subito rimossi ma solo spenti rotatoria che diventerà definitiva una volta che saranno constatati gli effettivi benefici dell'opera un po' come sta già accadendo per le rotatorie all'altezza del bar Promenade e di quella all'incrocio tra Ponte San Gabriele e Circonvallazione Ragusa lo stesso sindaco Brucchi ha ribadito che i tanti pedoni che usufruiscono del tratto di strada di via Fonte Regina e via Flaiani anche con la rotatoria potranno muoversi in sicurezza nei percorsi pedonalizzati protetti con la realizzazione di questa rotatoria due saranno i semafori rimastettivi all'incrocio tra via Crispi e via Roma e in via Riccitelli le nuove rotatorie si inseriscono nell'ottica di una più completa rimodulazione della viabilità terramana su cui l'amministrazione sarà al lavoro nei prossimi mesi lavoro che si completerà portando in Consiglio Comune il nuovo piano urbano del traffico lo strumento però dovrà integrarsi con il piano della mobilità sostenibile che prevede a sua volta la realizzazione tra le altre cose di piste ciclabili su via Po via Le Crispi e Ponte San Francesco e questa mattina ha celebrato il primo matrimonio gay in Abruzzo a presentare la richiesta di unione civile dopo l'entrata in vigore della legge Cilinna sono state Elena Cornacchia e Margherita Monte Falcone che oggi si sono ritrovate nella sala consigliare del comune di Spoltore a ufficiare le nozze e è stato l'ex deputato del PRC Maurizio Acerbo e tra gli appuntamenti iniziativa in centro storico all'Aquila con gli chef che si sfideranno a colpi di zafferano Daniela Rosone lo zafferano dell'Aquila torna nella sua città e l'evento che domani animerà il cortile K Cappelli nel centro storico aquilano uno dei cortili più belli del territorio si apre ad una sfida tra chef con una giuria d'eccezione gli chef proporranno al pubblico piatti con lo zafferano al centro uno scrittore e quattro chef tra immagini narrazioni e degustazioni un evento che arriva dopo la sottoscrizione di un patto per il territorio che mira come spiega l'associazione le vie dello zafferano a creare possibilità di sviluppo nell'area della DOP zafferano dell'Aquila L'evento si chiama lo zafferano dell'Aquila DOP torna nella sua città ed è un evento è un'occasione che fa ritornare il territorio all'interno delle mura cittadine della città dell'Aquila con un evento che comincerà alle 17.30 di domani il cortile K Cappelli il corso Vittorio Emanuele ci sarà una specie di sfida tra chef del territorio che presenteranno un piatto allo zafferano con una giuria di rilievo e poi seguirà tutta la serata durante la quale i produttori di zafferano accoglieranno il pubblico della perdonanza parteciperanno alla sfida Gianluca Carrozzi di Villa Dragonetti Eugenio Masci del ristorante Pane Olio Alessandro D'Andrea dell'agriturismo Centura a San Pio delle Camere Stefano Mazzietta dell'Osteria e due ladroni di San Vittorino con lo scrittore Vincenzo Battista che li accompagnerà con una narrazione speciale in giuria lo chef Stella Michelin William Zonfa Ma come ho detto a Nicola mi aveva chiesto semplicemente di cosa vorremmo organizzare e cosa fare insomma per riuscire a dare insomma per fare squadra per radunarci per valorizzare per raccontare ma ci è venuto in mente insomma di organizzare questa sfida dove io sarò in giuria e leggeremo un vincitore insomma ci sono 4-5 chef che raccontano il territorio tramite piatti e in questo caso tutti i piatti a base di zafferano niente è un motivo per stare di nuovo insieme per raccontarsi per raccontare il territorio quindi dicevo sono in giuria non so mi sembra ci sia anche il sindaco se parteciperà non lo so niente è un motivo per stare tutti insieme per raccontare il territorio e per parlare ancora di un grande prodotto che è lo zafferano Campli e Pietracamela per 10 giorni diventano borghi della musica prende il Via Oggi la rassegna concertistica nei due comuni terramani che sarà accompagnata da una importante masterclass vediamo da oggi al 2 settembre i comuni di Campli e Pietracamela si trasformeranno in borghi della musica 10 giorni con altrettanti spettacoli e concerti musicali di alto profilo allietteranno le serate agostane dei due centri terramani l'evento patrocinato dal Senato della Repubblica e voluto dall'associazione Chimbala e dalle rispettive amministrazioni comunali prevede parallelamente lo sviluppo del progetto IMC masterclass tra le più importanti a livello europeo con oltre 150 musicisti accorsi da tutto il mondo per perfezionare le loro tecniche si è un progetto molto ampio appunto che parte dalla masterclass progetto IMC per arrivare a produrre spettacoli serali i ragazzi sono tantissimi stanno già lavorando mentre noi parliamo abbiamo già i solisti per i due concerti con la sinfonica del 27 e del 28 rispettivamente a Campri e a Pietra Gamera per quanto riguarda la masterclass è un momento particolarmente qualificante sì perché è veramente un corso di alto perfezionamento io che ne ho fatti oramai a una certa età però quando avevo 20 anni ne ho fatti tanti anche all'estero so quanto formano questi corsi e il ragazzo il musicista si rende conto se la strada è quella giusta o no quindi noi in questo momento andiamo ad impegnare le nostre forze anche le nostre economie quelle stesse economie che ci sono state giustamente riconosciute l'anno scorso in un momento di difficoltà per lo sviluppo culturale dell'intero Abruzzo e su questo non ci diriremo mai indietro da questo punto di vista Prie appuntamenti concertistici oggi al Belvedere di Pietra Gamera e domani al Comune di Campli abbiamo colto al volo l'occasione di poter avere da noi l'eccellenza culturale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese in modo che creare un'attrattiva culturale nel nostro borgo che soffre ancora dei danni del terremoto e da poter ridare vita a un tessuto sociale che già è stato danneggiato negli ultimi anni sono presenti a Campli i maestri più importanti più noti nel mondo e allievi provenienti da tutte le parti del mondo Libano Stati Uniti in questi giorni vedere per Campli questi ragazzi che passeggiano con i trolley gli strumenti musicali e sentire queste note che risuonano nel nostro centro storico è per noi un motivo di grande orgoglio quindi attendiamo tutti coloro che amano la cultura che amano la musica a Campli Passiamo la pagina sportiva ha retto l'esame Napoli lo stadio Adriatico oltre 18 mila persone presenti sugli spalti per la prima in A dopo quattro anni per i biancazzurri tutto ok per il manto erboso e sul fronte dell'ordine pubblico il servizio Pescara ha risposto benissimo a questa prima gara di campionato di Serie A ha risposto bene nello stadio Adriatico non ci sono stati problemi di ordine pubblico è andato tutto bene direi proprio di sì insomma lasciatemelo dire la prima risposta positiva viene proprio dalla squadra e poi viene da tutto il sistema da tutto l'apparato di sicurezza che la questura ha messo in piedi ma anche quello che è stato l'apporto da parte della città e delle forze della Polizia Municipale e della Manutenzione del Comune di Pescara non voglio sottovalutare l'apporto di nessuno ma ci tengo a mettere in evidenza tutto ciò che è stato fatto perché tutto potesse procedere nel migliore dei modi possibili con la questura ci siamo sentiti in continuazione sempre in questa settimana proprio per cercare di rendere al meglio la visita anche degli ospiti napoletani e lo abbiamo fatto con intelligenza sapendo che sarebbero arrivati in tanti con le macchine la Polizia Municipale e la Questura hanno gestito in maniera incomiabile e voglio dire che a mezzanotte e cinque eravamo tutti a casa con le strade completamente riaperte a vigilia c'era qualche timore per le condizioni del terreno di gioco nella partita di Coppa Italia con il Frosinone era apparso non al top ieri invece si è visto un campo un terreno di gioco in condizioni sicuramente migliori un rifacimento del campo di calcio che si è reso necessario anche per volontà della Federazione che è un campo giovane da poco realizzato completamente in erba viva e quindi c'è bisogno anche di un suo antecchimento particolare avrete notato anche che tra il primo e il secondo tempo su un lato c'è stato un innaffiamento del campo proprio per fare in modo che la sabbia penetrasse ancora con maggiore forza all'interno della struttura del manto erboso ma il campo ha retto benissimo e credo che reggerà anche per il proseguo della stagione soprattutto con i risultati del Fino Pescara Nella gara d'esordio della nuova stagione della massima serie Biancazzurri hanno giocato alla pari per un'ora con la corazzata partenopea portandosi sul 2-0 e subendo poi nella ripresa il ritorno degli ospiti un punto comunque d'oro vediamo il servizio Stecca il Napoli all'esordio allo stadio Adriatico di fronte ad un Pescara che alla fine può anche recriminare per due punti persi il doppio vantaggio con cui gli abruzzesi hanno chiuso il primo tempo non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe stato clamoroso ma per nulla immeritato per quello che si era visto in campo nella prima ora di gioco per la squadra di Maurizio Sarri orfana di Higuain un avvio non esaltante con Mertens che nella ripresa evita una clamorosa sconfitta si comincia dinanzi a spalti quasi cremiti qualche vuoto solo nella curva ospite in campo il Pescara lo stesso della gara con il Frosinone con Caprari unica punta di ruolo e Coda Ghiomber al centro della difesa gli azzurri giocano come previsto centrale e Milik in panchina sul fronte offensivo c'è anche Lorenzo Insigne ex Biancazzurro proprio come Sarri l'avvio è come da copione di marca partenopea i ragazzi di Massimo Oddo prendono coraggio e così al nono benali sul filo del fuorigioco riceve palla da verra e davanti a Reina non sbaglia mettendo il pallone in rete per il meritato vantaggio i padroni di casa non mollano e qualche istante dopo e Biraghi a chiamare ad una parata strepitosa all'estremo campano Sarri si dispera dalla panchina con i suoi ragazzi che si scuotono e che all'undicesimo si rendono nuovamente pericolosi con Callejon che sfiora il pari i campani che non si aspettavano questo avvio degli abruzzesi barcollano Amsic cerca di prendere per mano la squadra ma i reparti appaiono scollati i partenopei fanno poco e si rivedono però al ventiquattresimo con un tiro di poco alto di Valdifiori dai 30 metri ma il pescara disegnato dal tecnico Biancazzurro è più che mai cinico e così al trentacinquesimo arriva il raddoppio con Zampano che si invola sulla destra e mette a centro area per Caprari che fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti la ripresa si apre con il Napoli all'assalto e con Sarri che manda all'ottavo minuto in campo Milik Mertens per Gabbiadini ed Insigne cambia così l'attacco e così cambia anche il punteggio che vede segnare al quindicesimo proprio Mertens il gol del 2-1 passano pochi minuti al diciottesimo Mertens approfitta di una bambola di coda segnando il gol del 2-2 il Napoli continua a premere ma non concretizza le azioni il finale di gara vede così il copione già scritto con gli ultimi attacchi degli ospiti ed il Pescara a difendere il meritato 2-2 e al 91esimo soddisfazione in casa Bianca Azzura nelle parole del tecnico Oddo e del presidente Sebastiani e dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio perché il calcio è uno spot in uno spot non si va in campo per pareggiare o per perdere si va per vincere quindi una squadra deve fare di tutto per fare il massimo e per poter raggiungere una vittoria poi a volte ci si riesce a volte no oggi ci abbiamo provato l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo mettendo in grande difficoltà il Napoli giocando con coraggio quella che è sempre stata la nostra prerogativa poi nel secondo tempo la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo non tiriamoci indietro continuiamo a fare la partita però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti oggi l'altra squadra è il Napoli non potevamo avere una condizione del 100% ovviamente perché siamo inizio campionato la gamba è venuta un po' meno la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile molti all'esodio in Serie A quindi un grande spreco di energie e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati ma è inevitabile ci mancherebbe saremo stati dei fenomeni per 90 minuti così però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì ma ci siamo difesi con grandissimo ordine lo abbiamo fatto molto molto bene abbiamo sbagliato nel primo gol dove c'è stato un errore poca aggressività mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio un liscio è venuto fuori quello è rammarico però per il resto ricordo un'altra parata di bizzarri ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte soddisfatto direi di questa partita un grande pescara per 60 minuti assolutamente soddisfatto come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3 a 0 per noi quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3 a 0 già nel primo tempo però al di là delle battute o delle sensazioni personali una partita così penso che sia da incorniciare perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che al cospetto di una squadra che è arrivata a seconda in campionato che si giocherà alla Champions facendo veramente i 60 minuti anche 65 ad altissimi livelli Simone Pepe è un nuovo giocatore del Pescara quindi è venuto a Pescara oggi pomeriggio abbiamo fatto il contratto domani farà le visite che saranno la formalità e poi si aggregherà alla squadra una situazione centravanti oggi è arrivato anche buyback da Parigi quindi diciamo che siamo già a buon punto perché poi noi parliamo sempre di quelle che mancano ma a vedere una squadra così poi dobbiamo pure capire dove li facciamo giocare quelle che arrivano perché noi giocano in 11 e abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora e quindi abbiamo Muric che è arrivato che in questa settimana verrà tesserato abbiamo già tanti giocatori e dobbiamo fare quelli che servono non per portare numero e Grassi ne ha parlato con Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del Pescara e il giocatore poi deciderà dove andare vedete lo spot di questa sera serve anche a questo una partita così come questa se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli probabilmente anche i giocatori che devono venire a Pescara ci pensano 4 volte invece vedere una squadra così che gioca molto bene che ha giocato ad armi pari con il Napoli probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a Pescara ed è ufficiale l'approdo al Pescara dell'attaccante francese Jean-Christophe Baebec il giocatore era arrivato ieri in città ed oggi ha firmato il contratto con il presidente del Delfino Daniele Sebastiani Baebec arriva dal Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto sempre oggi è divenuto ufficiale il tesseramento del fantasista croato Robert Muric che arriva da Lajax il presito biennale con diritto di riscatto Muric già da diversi giorni si allena con il gruppo e scendiamo in Lega Pro un buon Teramo perde di misura nell'amichevole disputata al Bonolis sabato sera con il Teramo ora si guarda all'esordio di campionato il servizio finisce con una sconfitta di misura condita dal giallo del probabile fuorigioco finale il precampionato del Teramo all'ultima uscita col Perugia prima dell'esordio di sabato prossimo al Saleri di Lumezzane ma i meccanismi della squadra di Zauli specie nel primo tempo con una formazione che assomiglia tantissimo a quella titolare sembrano già un patrimonio sul quale investire nel duro torneo che attende i Biancorossi con Amadio ormai ai margini del progetto e con la valigia pronta in direzione latina il ruolo del metronomo passa nelle mani di Davide Peterman Ilari dopo una preparazione a singhiozzo torna dal primo minuto e lascia un'ottima impressione mentre l'attacco veloce Sansovini Petrella ispirati da Carraro mette in grosse ambasce la retroguardia Umbra ma al di là della sicurezza rappresentata dalla cerniera centrale di difesa Caidi Speranza sono gli esterni la migliore sorpresa di questo inizio di stagione Scipioni sembra tornato sui livelli di due anni fa Dorazio ha una marcia in più rispetto a tutti chiude riparte si propone e per la seconda volta nella preseason segna lo fa al ventunesimo raccogliendo la corta respinta di Elezai sul piazzato di Peterman primo tempo col brivido finale perché Mancini tocca duro Petrella e il folletto di Pratole è costretto a lasciare il campo claudicante nella ripresa entra a croce al suo posto la punta si fa vedere e Sansovini è quasi sempre presente nelle azioni pericolose ma il Perugia sale di tono e si vede specie con Zebli che prende in mano la mediana prendendo le misure a Peterman che al sessuntunesimo di fatto gli regala evitando a tutti i costi il rinvio il pallone dell'uno a uno la squadra di Bucchi è diversa dalla prima frazione il Teramo cambia radicalmente l'undici iniziale anche se uno dei neo entrati Placido costringe al sessantanovesimo imparato al fallo da rigore dal dischetto però Elezai ipnotizza il destro di Carraro col risultato che rimane invariato nonostante le squadre inizino a sentire la stanchezza e le occasioni non manchino per portare a casa l'amichevole ci provano Didiba e Dorazio a ridosso della mezz'ora di frazione mentre Di Carmine lasciato spesso isolato chiama in causa Rossi prima del rush finale che vede Fratangelo seminare il panico nella retroguardia Umbra e con Croce che pecca in sicurezza e manda alle ortiche l'occasione del successo che invece non si lascia scappare al novantesimo proprio di Carmine col Teramo che protesta forse per una posizione di fuorigioco non rilevata conta poco quasi nulla per entrambi i biancorossi di Zauli chiudono il precampionato con uno stop che però lascia in dote la sensazione palpabile che la strada intrapreda sia proprio quella giusta penso che abbiamo fatto una buona partita con una buona intensità abbiamo cercato di imporre il nostro gioco è stata una partita dove l'aspetto principale era quello di curare bene il possesso palla di curare già un pizzico di aggressività che ci servirà per forza in campionato sono rammaricato perché comunque queste partite servono anche per cominciare a cercare di ottenere risultato quindi quando non arriva anche in questa maniera comunque dà fastidio pur che sia un amichevole a posto abbiamo finito il nostro periodo di preparazione mi auguro che da lunedì anche l'infortunio di Petrella possa essere lieve e ricominciare tutti da lunedì per cominciare questa avventura nella partita di Lumezzani e vince 5 a 4 a Monterodi dopo i calci di rigore l'Aquila a calcio l'intervista al tecnico dei Rosso Blu Massimo Morgia nel servizio Buona la prima per l'Aquila a calcio che nel preliminare di Coppa Italia batte a rigore il Monte Rosi che affronterà in casa nella prima giornata di campionato 4 a 5 il finale e tanto da lavorare ma buoni spunti per Mr. Morgia che ha schierato una squadra di giovani con Pepe squalificato in difesa e Bomberganci e Giorgio Lavista al centrocampo entrati solo nel secondo tempo e che comunque hanno messo in luce l'esperienza giusta per affrontare questo campionato il tecnico è stato chiaro manca ancora qualcosa e in settimane si aggregheranno altri giocatori per completare la rosa Bene, non necessariamente dobbiamo suonare le campane però è una squadra molto giovane in via d'allestimento per quello che abbiamo fatto fino a questo momento la cosa più importante è proprio lo spirito che ci mettono la grande voglia di correre insieme di aiutarsi di fare gruppo su questo ci siamo sul piano del gioco certamente dobbiamo essere più produttivi dobbiamo creare molto più azioni però con il tempo faremo tutto sì, penso lo sanno tutti l'abbiamo detto mancano giocatori però un paio ma non dobbiamo aver fretta di prenderli tanto per riempire delle caselle che attualmente sono vuote dobbiamo rafforzare una squadra che secondo me ha le potenzialità per fare benissimo e quindi non dobbiamo sbagliare niente quindi sia sul piano strettamente tecnico e fisico ma soprattutto su quello caratteriale quindi abbiamo bisogno di persone vere di uomini che sanno essere d'aiuto ai tanti ragazzi che dobbiamo schierare e non prendere giocatori tanto per rivenire all'Aquila a svernare ma rimane aperta la questione dello stadio di Acquasanta senza lo stadio il progetto tecnico di mister e staffa non può andare avanti la consegna breve diventa quindi un paletto insuperabile dal comune rassicurano e in settimana ci saranno novità ma si lavora per darlo all'Aquila calcio a metà settembre ho sempre detto che quello sono venuto soprattutto per quello quindi spero che sia il prima possibile perché altrimenti tutto sarebbe da rivedere anche la mia posizione perché l'ho sempre detto lo ripeto anche perché la squadra è una squadra molto tecnica fatta per quel campo e non certamente per un campo dove magari siamo costretti a dividerlo con il Rebbi ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna stasera alle ore 23 prima di chiudere ricordo l'appuntamento di stasera su TV6 torna a replay prima puntata stagionale in studio come sempre Enrico Rocchi grazie per l'attenzione a tra poco grazie per l'attenzione